Alla casa di Giotto un viaggio musicale attraverso le più note colonne sonore, musical, canzoni d'autore italiane e internazionali, da Titanic a Indiana Jones passando per Grease, Summertime o Sole Mio, solo per citarne alcune. Al Palazzo dei Vicari di Scarperia, prima edizione del Silent Party del Mugello, con tre console e tre diversi generi musicali in contemporanea da ascoltare in cuffia. Per informazioni www.prolocoscarperia.it Il centro storico borghigiano invaso da splendidi esemplari di auto e moto degli anni 70 e 80, veri e propri gioiellini del passato motoristico in mostra. Per informazioni www.prolocoborgosallorenzo.it Installazioni e decorazioni di lana, cucito e ricamo coloreranno tutto il centro storico barberinese anche nella settima edizione di questo invento di Urban Kipping. Ed ancora, musica, animazione e attività per bambini. Per informazioni www.prolocobarberico.net www.prolocobarberico.net